Ci sono tante squadre nel giro di pochi punti che sono dirette concorrenti nostre per la salvezza, quindi nonostante stiamo facendo dei grandi risultati negli ultimi tempi, siamo una squadra nel girone di ritorno, potrebbe essere nell'alta classifica e tuttavia anche le altre se perdono una volta, poi l'altra successiva vincono e siamo quindi tutte lì. Certo oggi ci godiamo questa vittoria che naturalmente vale doppia perché è contro una diretta concorrente, ma ancora siamo in mezzo ai guai, quindi spero che giovedì contro la Casertana ci sia un grande pubblico a Brindisi che possa sostenere questi ragazzi perché se lo meritano negli ultimi tempi hanno bisogno anche del nostro pubblico, un ringraziamento particolare al gruppo che c'era oggi che ha fatto il tifo per il Brindisi dal primo all'ultimo minuto e pensiamo a giovedì.